Si scrive Job Day, si legge opportunità ma anche trampolino inedito di formule e sinergie che verranno presto replicate e che vedono nei numeri registrati nella sede tradattese dell'agenzia formativa la prova di quanto siano richieste iniziative come questa. Abbiamo dato l'opportunità alle persone di candidarsi, di prenotare una fascia oraria per poi sostenere questi colloqui. Le persone saranno poi indirizzate alle aziende che procederanno alla vera e propria selezione delle candidature. 217 le persone che hanno risposto presente a fronte di 20 aziende interessate ad assumere. Tra le figure più richieste, lavoratori dell'ambito chimico-plastico che ben riassumono la carta d'identità di questa parte del Varesotto. Per la prima volta il Job Day ha un suo canale specifico anche per le persone portatrici di disabilità e infatti abbiamo un operatore che matcha anche le assunzioni per le persone con disabilità. Riuscita la partnership pubblico-privata che ha visto il centro per l'impiego stringere alleanza con la Synergy. Ci piacerebbe poi replicare il modello e continuare migliorando anche se possibile, cercando di coinvolgere il più possibile gli utenti qui sul territorio. Ci piacerebbe sicuramente che sia il primo di una lunga serie.